Guardate, buonasera, quelle parole scritte laggiù su quel muro. Sono le famose parole che aprono il libro undicesimo della Genesi che contiene il mito della torre di Babeli e vogliono dire quello che tutti pensano che vogliono dire. Potrebbe non essere così, perché noi sappiamo che nel libro precedente, il decimo, l'umanità già aveva lingue e culture diverse e qui si crea un po' un pasticcio, perché allora che cosa vogliono dire quelle parole? Secondo il grande dottor rabbino inglese Jonathan Sacks, quelle parole vanno interpretate come il tentativo, sentite perché è una cosa che scuote molte certezze, il tentativo di imporre con la forza una cultura su tutte le altre, per cui il mito di Babeli e altro non sarebbe che la critica ad un impero che cerca di imporre le sue leggi alle grandi masse umane. Se questa interpretazione fosse giusta, sarebbe particolarmente adatta a noi che abbiamo scelto la torre di Babeli come testata di questo programma e in particolare alla puntata di stasera che dedichiamo ai giovani. Perché morale di questa breve presentazione si tratta di costruire una torre o un mondo nuovo e a loro, ai giovani, che spetta. Buonasera Serra, sono contento che lei sia qua perché affrontare il problema dei giovani soprattutto da parte di un uomo di età molto avanzata come me non è facile. Intanto già dire i giovani è una categorizzazione un po' così perché i giovani ci sono quelli ottimi, quelli pessimi, quelli così così come sempre. Però forse alcune caratteristiche col suo aiuto tanto più che lei ai giovani si è dedicato adesso dico perché forse qualche caratteristica nuova che li inserisca nei tempi, negli anni che stiamo vivendo si può trovare. Dicevo che lei se n'è occupato perché non è che voglio far vedere il libro come dice la Marchetta dice è venuto per far vedere il libro lo so però io lo faccio vedere lo stesso perché questo qui è stato un libro importante sa perché secondo me è stato importante perché non l'ha scritto un sociologo è così? Sì, è così pretendeva di essere un'opera di narrativa quindi una storia e questa storia viene fuori che cosa però? viene fuori che un padre non si sente più capace di capire un figlio adolescente e neanche di parlargli e viene fuori che questo padre capisce che forse dovrebbe tornare a esercitare il proprio ruolo in modo più con la P maiuscola ma capisce anche che non è in grado di farlo che non si torna indietro cioè che la tavola delle leggi non ce l'ha più non la possiede più è infranta e quindi dice a se stesso prima ancora che al figlio io sono questa cosa qui io sono un padre testimone di un'epoca di confusione e non di un'epoca di ordine non mi sorprende perché il narratore quale lei e attento osservatore del costume quale lei è ha le antenne vede le cose pensa di non essere un sociologo ma inevitabilmente le trasferisce sulla pagina di fatto in questo libro che riesce ha avuto una fortuna diciamo sproporzionata sì sproporzionata sono d'accordo con lei sproporzionata le mie attese spero proporzionata ai meriti non miei ma del libro è venuto bene è venuto bene Feltrinelli l'ha stampato bene eccetera una recente inchiesta del Censis che è un istituto demoscopico serio che va seguito dice che gli italiani non solo i giovani gli italiani in generale vivono in una condizione come di sonnambulismo siccome parlavamo di narrativa noi sappiamo che ci sono c'è un grande romanzo i sonnambuli che è quello con il quale ci si avviò alla grande guerra con la testa nel sacco vivono il nostro sonnambulismo secondo il Censis deriva dal fatto che non reagiamo le cose anche sgradevoli ci scivolano addosso senza suscitare reazioni condivide abbastanza qualcuno reagisce diciamo che reagiamo individualmente spesso e forse un po' scompostamente non in modo organizzato ecco manca la politica per dirla nel modo più banale cioè ogni tipo di 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 reazione di riflesso diciamo contrario a quello che accade finisce nel nulla perché non riesce a organizzarsi assieme ad altre reazioni questa è la mi pare la grande differenza rispetto so che lei mi ha invitato in quanto giovane Augias per parlare dei giovani ecco però rispetto ai giovani di adesso mi sento decrepito perché la scomparsa della dimensione politica dalla vita sociale italiana è clamorosa ci si ricorda della politica per andare a votare e non tutti non per caso e non tutti una piccola solo una piccola parte tra l'altro a questa osservazione che abbiamo accennato insieme il census ne aggiunge un'altra che riguarda addirittura l'80% dei nostri connazionali e cioè considerare l'Italia irrimediabilmente in declino condivide? Sì faccio parte dell'80% ahimè e lo dico a malincuore ma mi sembra che sia oggettivamente un paese in declino e per ragioni anagrafiche perché facciamo come è noto pochi figli e perché e perché è come se non riuscissimo a immaginare un domani guardi la differenza sola vera enorme differenza che c'è tra chi ha vent'anni oggi e i miei vent'anni e probabilmente anche i suoi vent'anni è che per noi il futuro era una certezza era qualcosa che doveva necessariamente inevitabilmente accadere e avrebbe portato novità energie era appassionante adesso il concetto di futuro è scomparso è come se fosse stato ingoiato dalla realtà e beh sonnambulismo vuol dire che uno è in quello stato diciamo di dormivelia dal quale vorrebbe tanto svegliarsi ma evidentemente non ci riesce però questa differenza se ci pensiamo è veramente enorme cioè come deve essere a vent'anni immaginare il futuro e non riuscire a vederlo a inquadrarlo adesso però volevo farle ricordare che le paure dei nostri connazionali condivise credo da tutti è il clima impazzito 84% eccolo là la crisi economico sociale 73% il conflitto un possibile conflitto mondiale 60% più della metà attacchi terroristici 50% cioè queste se io metto in fila queste quattro voci che cosa leggo? Leggo le prime pagine dei giornali degli ultimi giorni in realtà lei fa parte di questo gruppetto ci sto pensando per questo che esito a rispondere le ho fatto una domanda difficile no la domanda è molto giusta proviamo a dire una cosa ottimistica il mondo è sempre stato tremendo è sempre stato una merda per se vogliamo dirla eticamente parlando è sempre stato un luogo nel quale le ragioni per avere paura per sentirsi insicuri erano persino maggiori di oggi io non mi dimentico mai che mio papà a vent'anni è partito dalla spiaggia di Porto Empedocle per la guerra d'Africa ed è tornato sette anni dopo nel 46 è partito nel 40 le condizioni le condizioni di allora erano oggettivamente più dure più pericolose di quelle di oggi eppure come se oggi ci sembrasse tremendo dover affrontare un livello di paura e di insicurezza che tutto sommato l'umanità ha sempre affrontato il mio sospetto è che la società mediatica non ci aiuti e noi siamo abbiamo guadagnato il pane facendo i giornalisti lavorando nei giornali e scrivendo però devo dire che più andai avanti con gli anni e con l'esperienza più mi faccio delle domande su quello che è il ruolo dei media il sospetto che sia da un lato tremendamente ansiogeno perché bombarda con notizie tremende ci avvolge di ogni possibile catastrofe che accade nel mondo e dall'altro impedisca di trovare via d'uscita ce l'ho viene voglia di spegnere tutto andare a farsi una passeggiata o leggere un romanzo cioè come se la via d'uscita quindi non fosse nel rapporto nel rapporto con i media ma fosse da un'altra parte sì in un eremo io faccio un'altra analisi vediamo se riusciamo a combinare le due e cioè che queste quattro paure vanno messe insieme a quella che abbiamo detto prima cioè sono all'interno di una concezione generale di un paese in declino questo è questo che le rende drammaticamente ansiogene perché se queste paure il clima impazzito fosse in un paese forte e aggressivo voglio dire non per carità commercialmente industrialmente come l'Italia è stata anche l'Italia moderna in tanti periodi della sua vita forse queste paure diminuirebbero di conseguenza sto brancolando e viene anche voglia di chiedersi che paure hanno i popoli giovani per esempio che tipo di ansie vivranno ammesso che le vivano non so i vietnamiti i cinesi i senegalesi i ganesi noi rappresentiamo una fetta di mondo tutto sommato piccolina e lo dico anche perché questo è un altro elemento secondo me leva ansia cioè noi siamo un settimo lo ripeto spesso noi chi? ecco buonissima domanda noi diciamo sedicenti occidentali comunque questo corpus secondo me in parte immaginario che sarebbe l'occidente cioè Europa Stati Uniti Nord America Europa anche Sud America e Giappone sono un miliardo e duecento milioni di persone si possono fare i conti anche su Wikipedia è facilissimo l'umanità è quasi otto miliardi di persone quindi noi siamo un settimo del genere umano io sono sempre più curioso di sapere che accidenti pensano gli altri sei settimi e ho come l'impressione che se smettessimo un pochino di parlarci addosso avremmo persino qualche sollievo vediamo prima abbiamo detto le paure le nostre paure le paure da che dipendono noi siamo andati a vedere a sentire quali sono le paure dei ragazzi risposta paura di essere sovrastati da una serie di possibilità incontrollabili come può essere la crisi climatica come può essere magari una situazione politica instabile come può essere la paura di non avere un lavoro la paura di non realizzarsi e che poi tutto questo effettivamente a me in primis ma a tutta la mia generazione di creare un incredibile stato di passività nei confronti della vita di dire io sono talmente pieno di problemi che rimango nel mio e alla fine non cambierò mai niente paura di non riuscire a dare un senso a quello che si fa sento molto la pressione di dover diventare qualcosa per avere un certo stile di vita a me non riuscire a realizzarmi nella vita la mia invece di non essere abbastanza la paura che ho è che proprio vivere in questa società mi crea angoscia perché non so cosa mi spetta e vorrei poter dire che il mio il mio futuro dipende da quello che sto facendo ora dal mio percorso di studio ma io credo che non servia molto la nostra età è appunto il futuro cioè di non riuscire a prendere i propri obiettivi da cui realizzarsi crearsi una famiglia avere un lavoro vero e proprio questo diciamo è il lavoro più ampio per noi ragazzi cioè alla fine ci riunisce tutti noi il lavoro del futuro rendermi conto quando ne avrò magari 60 70 di non essere riuscito a esprimermi e di avere il rimpianto di non essere diventato ciò che avrei potuto diventare di essere un fallimento di sentirmi un fallimento attualmente non penso molto al mio futuro non mi vedo ecco al futuro ma bensì vivo giorno per giorno rispetto al mio futuro magari avere delusioni lavorative la mia paura è fallire la mia paura più grande è quella di non riuscire a centrare i miei obiettivi principali la mia più grande paura è quella di non raggiungere il mio obiettivo con la scuola perché sono una persona molto insegura anche della scuola molto insegura con la scuola la paura grande di rimanere la sola perché noi stiamo cercando costantemente un grande appoggio dai nostri coetanei perché in qualche modo soprattutto io lo sento adesso sono diventata recente maggiorenne mi sento come se tutto il peso del mondo fosse calato sulle mie spalle perché effettivamente ho il diritto di voto posso scegliere mi sono ritrovata ad essere una cittadina del mondo e però questo comunque è molto disorientante perché dal fatto che comunque non so cosa effettivamente farne se c'è un tema diciamo che unisce queste varie esperienze è la paura di fallire però caro Serra questo vecchio signore le confessa che quando io avevo la loro età avevo anche io ero c'era Cavour più o meno al governo ma avevo anch'io paura di fallere cioè l'esame di maturità era visto come una porta verso l'ignoto lei ha patito la stessa sindrome no perché lei è un altero stavo per dirle la stessa cosa identica caro Augas cioè la paura fa parte per me dire adolescenza e dire insicurezza spavento paura di non piacere paura di fallire è tutt'uno cioè io ho un ricordo dei miei primi anni di vita adulta molto faticoso quello che dovremmo chiederci è se la ragione fondamentale per la quale tutto sommato abbiamo scavallato queste paure dipendeva dalle condizioni più facili della società di allora e in parte la risposta è sì perché io se litigavo con i miei genitori e me ne andavo di casa trovavo otto lavori nel giro di una settimana adesso abbandonare il nido e affrontare il mondo è molto più complicato lo oggettivamente proprio la seconda cosa è chiedersi se oltre alle condizioni oggettive per le quali si può immaginare che sia più facile avere ansia adesso ci sia anche una condizione psicologica mutata che si sia più fragili non lo so questa è una domanda alla quale bisogna che rispondano come dire gli specialisti gli specialisti no di fatti lei lo stavo prendendo questo citato ricitando questo libro perché lei qui nella postfazione che ha aggiunto questo è un libro uscito dieci anni fa sì e questa è una riedizione questa è una riedizione scrive per noi futuro vuole dire un luogo ricolmo di occasioni per chi è giovane oggi oggi futuro è il luogo oscuro per definizione ha ragione ma sa perché perché a parte Gavour quando noi eravamo giovani in Italia era un paese in espansione io ricordo che la lira aveva vinto l'Oscar delle monete ricordo che le Olimpiere di Roma del 1960 furono organizzate anche dal punto di vista a parte i risultati sportivi dal punto di vista logistico in maniera impeccabile Roma venne rimessa a nuovo che ancora oggi godiamo un po' di quelle strade che furono costruite allora 60 anni fa insomma era un altro paese io faccio risalire tutto mi dica se esagero faccio risalire tutto al fatto che oggi siamo un paese demotivato e vecchio vecchio nel senso psicologico della paura dell'espressione crede che abbia torto io credo assolutamente sì credo che che l'analisi sia corretta e però questo mi fa tornare a quello che dicevo all'inizio se sono le condizioni della società diciamo a tarpare le ali ecco per dirla l'unica soluzione possibile non è individuale ma è politica soltanto che dire ai ragazzi guardate che dovete ricominciare dovete buttarla nuovamente in politica come avete fatto peraltro per quelle bellissime manifestazioni del 25 novembre dopo quel delitto al tempo stesso tremendo e così straordinariamente simbolico no il ragazzo che uccide la ragazza perché la ragazza lo sta superando perché si sta per laureare prima di lui e il moto di ribellione a questa cosa è un moto di ribellione formidabilmente politico perché vuol dire i presupposti culturali di questa società e dei rapporti tra i generi vanno buttati all'aria bisogna rifare tutto o questo o questo diventa io dico politica non so neanche se un ragazzo di vent'anni capisce che non sto parlando della Meloni ecco non sto parlando del bicameralismo non sto parlando di quello politica vuol dire che un sacco di persone si sentono meno sole perché mettono in comune i propri problemi ma dai tempi proprio dei braccianti che da soli non contavano niente e quando si mettono insieme a milioni diventano una potenza politica e cambiano la società e soprattutto si sentono meglio come persone non so come dirlo ma non so lo dico così non si butti giù l'ha detto molto bene anzi grazie la ringrazio molto ma per carità quando si può dare una parola di conforto ne ho bisogno guardi guardi in questa tabella quali sono le nuove forme del dissenso lei direbbe della politica noi possiamo dire del dissenso giovanile l'abbiamo preso la fonte della Repubblica quotidiano a lei familiare il 21 e 8 dei giovani pensa che alle prossime elezioni non voterà cioè 1 su 5 non vota 2 milioni di giovani il 20% 20% del totale praticamente non lavora né studia e qui torniamo agli sdraiati più o meno sfioriamo gli sdraiati il 60% ecco questa è un'altra cosa terribile il 60% dichiara che avendone la possibilità se ne andrebbe dall'Italia questa è una cosa guardi io lo dico con una punta di amarezza qui vede in fondo al cuore perché questa situazione coinvolge anche giovani della mia famiglia che se ne sono andati dall'Italia trovando peraltro situazioni incomparabilmente migliori e come avanzamento diciamo e come retribuzione di quelle che avrebbero avute qua però mi rendo conto che è un gesto di viltà perché se i ragazzi che vengono da famiglie più provvedute dove si parla di cose serie in un italiano diciamo corretto dove si stimola la lettura e ha interessi eccetera se ne vanno il depauperamento per il paese è tremendo ed è irrimediabile almeno nel breve medio periodo è irrimediabile e mentre lei parlava Augias mi veniva in mente la parola patriottismo cioè mi chiedevo se patriottismo è dire che siamo un luogo meraviglioso e siamo un'eccellenza mondiale eccetera eccetera e che il salame di capra di sotto e la mortadella di pozzo di sopra sono imbattibili beh se basta se questo è patriottismo non mi ci ritrovo ecco diciamolo in modo educato non solo non mi ci ritrovo ma penso invece che il vero patriottismo sia guardare in faccia quello che siamo e quelli che sono i nostri problemi o no sì tanto è vero che condivido che vorrei continuare questo spezzone di conversazione tra un minuto volentieri caro Serra stavamo parlando della attività dei giovani e della spinta ad andare via dall'Italia cosa gravissima è diventato ormai su su una dimensione preoccupante comunque considerevoli come dimostra questo grafico Fonte Istat che ci dice che dal 2012 al 2021 la percentuale dei giovani laureati che vanno via dall'Italia è passata dal 28 al 45 cioè un depauperamento del paese di proporzioni considerevoli contro il quale e qui forse c'è una critica politica politica contro il quale non si fa niente peggio ancora viene ignorato oppure si fanno dichiarazioni diciamo retoriche su quanto è bello il nostro paese quanto è bello vivere qua insomma lasciano la situazione al punto di prima anzi un po' peggio perché si ha l'impressione appunto che si faccia solo della retorica io non ho idea di come si possa invertire una tendenza di questo genere perché è una tendenza catastrofica insomma vuol dire che che il paese ha perso ogni possibile appeal per moltissimi ragazzi che essendosi laureati hanno anche ambizione di fare qualcosa di importante e di utile non ho veramente non lo so possiamo metterci a piangere insieme ma è brutto quindi poi non serve a niente e poi non serve a niente e poi non serve a niente e possibile possibile via d'uscita forse cominciare a guardare a noi stessi come la provincia di qualcosa di molto più grande di noi e quindi cominciare come fanno peraltro molti ragazzi che hanno fatto l'Erasmus che si sentono cittadini europei forse prima che cittadini italiani cominciare a pensare che noi siamo una simpatica vecchia provincia dove si va volentieri a trovare i vecchi genitori ma si mangia la mortadella si mangia la mortadella buonissima eccetera e però e però la vita le cose nuove accadono altrove da noi accadono cose vecchie consolanti piacevoli ma le cose nuove appaiono altrove è un vero peccato scusi le dico una cosa sul nostro paese che non si dice quasi mai ma appunto il fatto che non si dica quasi mai vuol dire che pensiamo poco e male a quello che siamo noi siamo il paese in Europa è uno dei paesi al mondo con la più grande biodiversità cioè abbiamo un numero di specie vegetali e animali infinitamente più grande rispetto agli altri paesi europei anche perché andiamo praticamente dall'Africa sì non dico al Polo Nord ma insomma alle Alpi imbiancate ecco questa cosa per esempio è una solo a dirla io vedo che lei ha sorriso quando l'ho detta anche a me mette di buon umore perché vuol dire che ci sono effettivamente delle risorse poco valorizzate oppure valorizzate in modo posso dire sciocco sì sciocco come quella terribile pubblicità welcome to meraviglia se lo ricordi terribile la carità di patria impone con quel rinascimento miserabile cartonizzato vabbè per carità di patria non parliamo più ne abbiamo già parlato però ci sono effettivamente delle cose io penso che per lo studio per esempio della biodiversità dei mutamenti climatici l'Italia possa essere un laboratorio straordinario e questo si dice poco non lo sa quasi nessuno che siamo uno dei paesi con la più alta biodiversità al mondo noi siamo anche uno dei paesi che stiriamoci su un pochino adesso se no poi serve no no dobbiamo siamo uno dei paesi dove la meccanica di precisione è tra le più apprezzate al mondo le aziende tedesche vengono a comprare quegli affaretti là qua non a Roma magari un po' più su però vengono a comprarli qua eccetera anche nel mezzogiorno che sembra così abbandonato ci sono delle isole di eccellenza di livello mondiale però veda qual è la cosa che non fanno non fanno caratteristica non fanno sistema questa è la cosa è vero perché siamo adesso qui si entra in pieno nel luogo comune ma facciamolo in fondo ci tocca ogni tanto ci tocca perché siamo un paese di individualità e raramente capaci di fare di fare gruppo insomma siamo un paese molto molto frammentato in piccole tribù e questo non ci aiuta aggiungiamo anche mettiamo sull'altro piatto della bilancia che siamo anche un paese con 100 miliardi all'anno di evasione fiscale come saremmo se quei 100 miliardi almeno in larga parte finissero nelle casse dello Stato magari saremo infinitamente migliori avremo una migliore sanità avremo una migliore scuola veda l'evasione fiscale a dimensioni tali in Italia che non solo Berlusconi o anche gli ultimi governi ma praticamente nessun governo ha mai affrontato seriamente il modo di contenerla sono più cattivo di lei non hanno voluto affrontarlo perché significava scontentare una fetta grossa del loro serbatoio elettorale guardi ci siamo incamminati su un sentiero pericoloso perché se io vado un altro passo avanti su questa strada sa dove arrivo questo è un difetto della democrazia lì arrivo perché quelli scontenti votano e nessuno che stia al governo vuole che chi vota gli voti contro perché gli ha levato come diceva Berlusconi i soldi dalla tasca è un difetto mi perdoni della democrazia che non riesce a vedere un palmo più in là del proprio naso perché se ci fosse un minimo di prospettiva e si dice ma forse perdo un po' di voti alle prossime elezioni però sono sicuro che sul lungo periodo verrò capito e recupererò questi voti se qualcuno osasse pensare non dico ai prossimi 30 anni ma ai prossimi 7, 8 secondo me cambierebbe anche Michele Serra e vabbè è bello sognare anche in età avanzata siamo seri siamo seri tornando sul tema dei giovani al quale la puntata è dedicata mi sono reso conto che queste ultime battute tra noi due almeno le mie erano un po' serili ma com'è possibile? adesso vorrei tornare sui giovani perché prima abbiamo detto i giovani non seguono la politica guardiamo insieme questi due documenti molto diversi tra l'altro di epoche diverse perché da una parte vediamo una violenza di tipo diciamo politico organizzata anni 70 più o meno e dall'altra una violenza contemporanea gratuita istintiva cattiva non che la violenza politica fosse meno cattiva perché ci siamo fatti si sono fatti molto male i giovani degli anni 70 certo fa impressione vedere una violenza come dire a vuoto fine a se stessa la violenza per la violenza è quella la cattiveria perché la violenza finalizzata è cattiveria ma diciamo nobilità adesso sto un po' barcollando da uno scopo quella non ha altro scopo che colpire ferire c'è una frase di Calvino che scrisse in polemica con Pasolini sul Corriere della Sera e che ora le leggo perché c'è lì un germe che è difficile da discutere perché si scivola nel politicamente scorretto senza accorgersene Calvino diceva la violenza che ora esplode nella nostra società è un fenomeno nuovo in quanto le società dei tempi passati incanalavano le proprie spinte aggressive verso esiti spesso altrettanto spietati ma collettivi quello che vuol dire in parole povere dietro questa frase elegante è non ci sono più le guerre in Europa da 80 anni in Europa Unione Europea non c'è più una guerra e questo genera dice Calvino violenza condivide la teoria è che la guerra fosse la vacro del mondo era una teoria non abbia paura di sbilanciarsi ora mi sbilancio invece dunque condivido l'analisi è sicuramente vero che 70 anni 80 anni anzi di pace possono creare questo tipo di turbolenza perché è come se ci fossero dei cattivi umori da sfogare e in qualche modo si trova il modo di sfogarlo soprattutto se si è maschi se si è giovani e se si ha testosterone adrenalina e quelle robacce quelle robacce lì allora questo però allora proviamo a dire una cosa una via d'uscita diciamo reazionaria a tutto quello che stiamo dicendo stasera anche sulla vecchiezza del nostro paese è impossibile perché i vannacci ci ha fatto così ci ha tanto impressionato non solo perché diceva delle cosacce sugli omosessuali ma perché proponeva un ordine che si è sgretolato sgretolato cioè quell'ordine lì l'ordine del patriarcato l'ordine della guerra la macro del mondo l'ordine della disciplina e qui torniamo anche al padre degli sdraiati che non sa che pesci pigliare quando parla col figlio ecco quelle cose lì non è che abbiano creato come dire un mondo ordinato pieno di benessere non è che stessero molto bene i fanti nelle trincee del carso io penso che lì se ci fossero stati degli psichiatri disponibili ne servivano non so un milione ecco io posso solo immaginare che cosa doveva essere il disagio psichico sull'erdenne o sul carso o nelle città bombardate durante la seconda guerra mondiale esattamente come nelle città nelle case bombardate di Gaza oggi la tentazione che abbiamo tutti più o meno però è dire una volta si sapeva come porre rimedio a queste cose una volta le cose funzionavano no una volta le cose non funzionavano oppure funzionavano con il sangue con la sottomissione con lo sfruttamento l'ingiustizia e quindi siamo obbligati a pensare a uscirne in avanti ecco questo volevo dire mi permette se le dico una cosa nel libro che lei ha l'altro che lei ha qui la copertina raffigura mi scusi no per carità questo è brutto ma mi serviva dirlo lei mi deve usare come espositore non volevo però quella copertina fa vedere un popolo che corre all'indietro copertina di Altan copertina di Altan esatto bravissimo no ma queste cose queste cose semplici ricapisco allora è un espositore straordinario questa cosa qui questa cosa qui non per caso è la copertina di un libro di satira no che dice che non che non va bene correre all'indietro correre all'indietro non porta da nessuna parte ci sono anche le frecce tricolori che sembrano quasi sull'orlo della catastrofe per carità però voglio dire e beh la satira serve anche essere un po' cattiva ogni tanto bisogna immaginarci un'uscita in avanti a tutto questo se no ci avvitiamo perennemente su noi stessi e diventiamo ancora più vecchi essendo già un paese vecchio dunque voglio vorrei cambiare tema e andare su un argomento apparentemente più allegro più facile in realtà fonte di mille equivoci che è il sesso non arrossisca no perché lo tratteremo il cerone aiuta a mascherare lo tratteremo con la dovuta cautela incominciando con questo documento una relazione richiede molto impegno e non ho voglia cerco sempre di non affezionare subito alla persona perché poi dopo riconoscerò il tempo le persone perché subitamente ti vendono un'immagine diversa da quella che poi è la realtà adesso voglio solo uscire con i miei amici e divertirmi stop no per adesso no sono bene così non ho avuto una relazione seria perché credo che sia una cosa importante a livello personale e nel momento in cui lo faccio voglio metterci la mia persona voglio metterci il mio impegno e tutto e quindi non voglio che sia una cosa tanto per fare adesso c'è così un'ampiezza di opzioni e di stili relazionali che è difficile magari rendersi conto di ciò che si vuole e non è necessariamente un male anzi credo che sia una cosa positiva cosa è per me un amore è un buco nero un pozzo senza fondo nel senso cioè lo definisco un pozzo senza fondo nel senso bello e brutto perché sai come entri ma non sai come esci la penso così da tante delusioni che una persona resiste resiste sempre perché ovviamente l'amore è illusione le prime di scene di sesso le ho viste su internet mi ricordo precisamente quando forse inizio medie fine elementari inizialmente penso il primo approccio sia un approccio comunque violento perché la pornografia una persona che non ha mai visto la pornografia risulta comunque violenta dietro però c'è tutto un mondo che in realtà è molto più più profondo che diciamo l'aspetto più non voglio definirlo volgare sinceramente perché l'aspetto più carnale cioè può essere davvero un posto dove secondo me imparare molto e poi credo di saper ricercare anche attraverso google o anche instagram quando lo utilizzavo informazioni e di saper selezionare le fonti cerchi una parte fisica del corpo e lì si apre tutto e poi lì diventa ricerca su ricerca più ne voglia più trovi più hai voglia ancora ricercare e lì bisogna arrivare quando finirà c'erano i primi telefonini e diciamo facevano vedere qualche foto qualche video così poi subentrava la curiosità e uno andava a cercare sul proprio cellulare scene di visiting praticamente è una penso sia categorizzabile come fetichismo è un fetich dove le persone si urinano addosso ed è un pochino volta stomaco da parte del sadomaso scene in particolare beh credo sia le scene di sadomaso di violenza pura c'è una ragazza che magari si fa picchiare apposta perché provava del piacere nel farlo credo sia una cosa senza senso mi fa impressione appunto vedere non lo so una persona che schiaffeggia un'altra persona mentre la mentre mentre compiono questi mentre compiono atti sessuali è successo che dei miei amici mi facessero vedere delle scene o scene nel senso magari che si fanno i bisogni addosso ecco e hanno abbastanza disgustato poi ho iniziato anche io diciamo all'età negli anni delle medie 11-12 anni perché comunque da poco qualche annetto fa mi sono iniziato a girare qualche video su su whatsapp su sui vari siti un video dove una persona diciamo costringe l'altra persona a fare ciò rimane un po' non so fermo riesce a capire ma cosa è vero e cosa non è vero cioè qual è giusto e cosa non è giusto caro Serra i dati dicono che il 30% uno su tre dei ragazzi tra 11-12 anni vede pornografia come la vede sono affari suoi e il fatto è che la vede ora il tema è delicatissimo perché si presta infinite considerazioni da ogni punto di vista vorrei convicciare e lanciarle una considerazione positiva anche se sembra strano cioè la pornografia è la pornografia ma sostituisce quella educazione punto interrogativo sostituisce quella educazione sessuale che nessuno fa o che viene fatta malamente come capitò a me quando avevo dieci anni dal compagnetto dal compagnuccio più malizioso più avvertito e la mia paura è che sostituisca l'esperienza questo sarebbe l'aspetto grave della grande diffusione della pornografia tra i ragazzi giovanissimi cioè che la pornografia non sia come dire propedeutica all'esperienza sessuale che ovviamente è insostituibile ma che ne prenda il posto credo che ci siano studi che confermano ahimè questa tesi negativa cioè c'è più paura del sesso cioè quindi la pornografia non prepara a una maggiore confidenza con il sesso quando si tratta di passare dal videogame diciamo così al gioco vero hanno paura e infatti ci sono coppie e ci sono coppie stabili quasi insane cioè che vanno avanti dai dai 14 ai 20 anni senza altre esperienze questo pare che sia molto diffuso tra i ragazzi di adesso quindi c'è è curioso è come se da un lato pornografia e dall'altro moralismo si tenessero bordone l'uno con l'altra pensi che io invece dopo aver fatto quel goffo tentativo un attimo fa di dare una cosa positiva il lato negativo della pornografia essendo un vecchio spiritualista lo individuavo nel fatto che della riduzione all'atto meccanico alla meccanica degli organi alla frizione degli organi l'amore il che è una roba tremenda perché l'amore 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 quello lì è una cosa talmente complicata convivere con l'amore è una cosa talmente difficile che pensare che basti fare uno due tre è condanna alla rovina delle coppie non so se lei condivide condivide mi sono espresso magistralmente tra queste reticenze da seminarista non solo abolisce cioè come dire separa dall'eros l'amore che invece è una componente fondamentale dell'eros ma per esempio tutta la il percorso faticosissimo della conquista io mi ricordo ce lo ricordiamo tutti da ragazzi era come andare in cima all'everest a piedi nudi insomma era una fatica bestiale riuscire ad attirare l'attenzione con un'ansia smisurata e con fallimenti e con rifiuti ecco tutto questo aspetto che è straordinariamente formativo e qui anche se non sono uno psicologo mi butto perché penso di saperla questa cosa questo aspetto che è così veramente formativo ti costruisci attraverso questo gioco vero questo gioco che è carnale ma anche sentimentale ecco l'idea che tutto questo possa essere comodamente rimpiazzato in un piccolo schermo nel chiuso di una cameretta è tremendo è molto rassicurante attenzione perché è un surrogato perché perché ti evita poi di andare fuori a fare la battaglia quella vera che è la battaglia per perché gli altri si accorgono di te perché qualcuno ti dica mi piaci ti voglio che è il massimo a quell'età del risultato cioè uno tocca il cielo con un dito è certo e quindi ci sono anche un paio di canzoni che lo dicono ci sono anche un paio di canzoni anche di romanzi di mediocre di mediocre qualità ora io non so se ai tempi di di Cavour quando Giovei non c'era la pornografia ma neanche ai tempi di Giolitti quando sono cresciuto io cioè io mi ricordo le prime copertine di Playman dove si vedeva mezza tetta ma era una cosa incredibile e quindi tutto verteva invece sulla sull'esperienza ecco la cosa più tremenda che rischiano di perdere i ragazzi di oggi soprattutto per vedere tutti i supporti tecnologici ma questo non riguarda solo la pornografia riguarda anche i social riguarda anche questo parlarsi sempre attraverso lo schermetto dello smartphone quello che rischiano di perdere è l'esperienza individuale che è insostituibile e che è un grande rimedio all'ansia alla paura di non farcela prima di tutto perché spesso non ce la fai e quindi una volta che hai capito che certe cose non riesci a farle stai meglio sì non è sempre così io quando sono riuscito ho capito che non avrei mai suonato decentemente il pianoforte mi sono sentito malissimo ma insomma comunque ognuno io volevo essere una rock star oggi a sé non ce l'ho fatta non ce l'ho no però me ne sono fatto una ragione sì ha sostituito adesso lasciando da parte le facezie e andando invece all'aspetto drammatico la pornografia può essere uno stimolo a quella piaga sociale devastante che è lo stupro cioè prendere una ragazza in due in tre in quattro quanti siano e usarla come un oggetto questo può essere una conseguenza della concezione meccanica puramente organicistica dell'atto sessuale dell'amore diciamo l'amore è quello quindi io lo faccio e lì si lì si afferma il maschio e spesso si afferma anche quello che ha la condizione sociale superiore a quello della ragazza sa sa perché dico questo scusi se parlo troppo ma quando ci fu il famoso stupro del circeo e correva l'anno 1975 quello fu un esempio di scuola di un gruppo di piccoli mascalzoni che approfittarono di quelle due sventurate uccidendone una perché erano maschi e perché erano dei pariolini ricchi e quelle erano due ragazze della periferia orribile cioè lì si condensò tutto quello che di male ci può essere in una situazione del genere mi dica se esagero no beh lì fu violenza di genere e violenza di classe sovrapposte quindi due violenze ugualmente orribili non c'erano non c'era internet voglio dire le cose orribili gli stupri sono sempre accaduti può darsi che il fatto che la la pornografia sia una specie di ipermercato dove tutto è mostrato e quindi tutto è reperibile qualunque tipo di di rapporto di violenza di perversione c'è e sugli scaffali può darsi che questo faccia pensare a qualcuno meno diciamo forte psicologicamente che appunto tutto è possibile domanda con la quale vorrei chiudere la ringrazio di questa conversazione ci siamo almeno io mi sono lasciato un po' andare proprio spinto dalla sua dalla simpatia forse ho sbagliato domani se ne pentirà me ne potrei me ne potrei pentire però volevo chiudere con una domanda che lascio alla sua alla saggezza di chi ha scritto da scrittore non da sociologo questo libro e cioè lei pensa che i ragazzi di oggi in generale siano più sofferenti di quanto fossimo noi alla loro età domanda difficile sono più forse sono una domanda stupida no è una domanda che dopo aver visto soprattutto alcune statistiche alcuni filmati viene voglia di porsi invece più sofferenti non lo so più soli più soli questo lo penso penso che noi riuscissimo abbiamo avuto la fortuna di riuscire a stemperare in due modi la nostra solitudine la nostra fragilità il primo modo era la politica quindi stare insieme ad altri e condividere condividere passioni poi alla fine anche passioni sbagliate ma comunque erano condivise e anche giuste ovviamente e il secondo modo con cui ci sentivamo meno soli era pensare che comunque saremmo cresciuti comunque saremmo inevitabilmente cresciuti perché il futuro come abbiamo detto all'inizio era non era un argomento di discussione era una certezza era una certezza assoluta questo ci ha oso dire scandalosamente aiutato noi cosiddetti boomer noi di quella generazione lì siamo nati nella parte più benestante del mondo abbiamo vissuto e siamo cresciuti senza mezza guerra e avendo tutti i parametri della ricchezza del benessere e anche della libertà cosa molto importante che decollavano abbiamo avuto un sedere grosso come il mondo caro Augias noi boomer e dobbiamo spendere questa nostra fortuna per cercare di per cercare di non essere troppo insopportabili a questi ragazzi quindi non parliamogli cerchiamo se ci riusciamo di non parlargli da paternalisti da vecchi da ti spiego io com'è proviamo ad ascoltare se ci riusciamo alla fine di questa puntata io leggerò mi dispiace lei sarà già in viaggio verso Milano nella notte leggerò delle righe di leopardi che stranamente riprendono un po' quello che lei ha appena detto pensi grazie onorato grazie a lei Augias arrivederla grazie sono contento che sia stato qua grazie anch'io grazie e mentre Serra si avvia verso le nebbie di Milano noi vediamo a proposito di malessere un documento di Laura della Ragione che riprende questo tema e lo approfondisce come può farlo una specialista Camilla arriva da noi nel 2021 a 12 anni si era già malata da un anno e mezzo non andava a scuola si faceva del male in tutti i modi possibili immaginabili pugni sul muro testate tagli di tutti i tipi con un'espressione di sofferenza molto molto forte nell'ultimo anno era stata ricoverata tre volte in ospedale per tentati suicidi e lo diceva lo diceva in modo esplicito io voglio morire fondamentalmente forse non era questo fondamentalmente diceva io non so come vivere non so come abitare nel mondo non so come 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 essere viva no poi a un certo momento Camilla smette anche di mangiare in casa aveva contatti bruttissimi peraltro molto difficoltosi con i suoi genitori che erano distrutti da questa da questa sofferenza annichiliti direi non la capivano non la riconoscevano non la vedevano fondamentalmente lei per farsi vedere faceva proprio gesti sempre più eclatanti ma con sempre maggiore sofferenza una delle cose che faceva era quella di scaldare un cucchiaino nel gas e procurarsi delle bruciature nell'addome e lei diceva in quel momento io mi sento meglio no fondamentalmente Camilla esprimeva un vuoto lo diceva io sono vuota non c'ho niente dentro non c'ho voglia di vivere non c'ho voglia di avere rapporti con nessuno io non sono niente cioè la sensazione è proprio quella di un vuoto interno di una falla ecco è come se ci fosse una falla nell'io e c'è una specie di strapiombo come una specie di voragine che si apre e in quel momento l'io non riesce più a stare in piedi non riesce a crescere in Italia sono attualmente censiti 600.000 persone 600.000 ragazzi sotto i 14 anni che manifestano disturbi di vario genere tra cui disturbi alimentari autolesionismo attacchi di panico disturbi depressivi maggiori quindi un numero molto alto che è aumentato moltissimo negli ultimi 10 anni ci sono in questo momento 3.400 suicidi che sono adolescenti quindi sotto i 18 anni stiamo parlando di minorenni quindi pazienti e ragazzi e ragazze che decidono di suicidarsi quindi questo è anche un dato che ha aumentato moltissimo e ci preoccupa molto fino a 20 anni fa noi avevamo delle cornici diciamo sociali dei contesti sociali che li proteggevano li consentivano una crescita educativa più o meno lineare se vogliamo anche con le crisi adolescenziali sono saltate le due agenzie principali la scuola e la famiglia questo ha creato una fragilità una debolezza nella crescita perché gli adolescenti hanno bisogno di sponde e in questo momento ce ne sono pochissime e ci ha raggiunto come si può vedere anche su quel muro Viola Ardone sono contento buonasera lei insegna scrive la domanda che viene da fare per una giovane professoressa che passa un bel pezzo della sua vita in una scuola a contatto che tipo di scuola dove è un liceo scientifico a Giuliano provincia di Napoli provincia di Napoli zona un po' agitatemi un po' di frontiera un po' di frontiera ecco dicevo la domanda che viene da fare una professoressa giovane che passa buona parte di un bel pezzo della sua vita in una scuola un po' di frontiera è quanto di quell'esperienza si travasa inevitabilmente in un romanzo di fantasia come questo diciamo che il fatto di essere insegnante mi dà un punto di vista molto privilegiato cioè quello di vedere il futuro in presa diretta il futuro è davanti ai miei occhi sono i ragazzi sono già avanti avanti a me avanti a quello che io conosco mi stanno mostrando delle cose nuove però è anche vero che poi c'è quello scambio generazionale che è quello che secondo me sta avvenendo un po' meno è anche quello quello scollamento cioè una volta c'era questo passaggio di consegne tra quelli che avevano un'altra età e i nuovi quelli che arrivavano e i nuovi poi spiegavano qualcosa agli altri c'era uno scambio c'era uno smosi ora mi sembra che si viva un po' una separazione tra questi due mondi che è stata sostituita dal controllo reciproco tramite social i genitori controllano i figli i figli localizzano i genitori quindi quello scambio che avveniva attraverso l'esempio attraverso la verbalizzazione attraverso uno scambio di libri oggi invece è un po' meccanico senta Ardone io sono pieno di curiosità mi permetta di fare i suoi allievi alunni allievi quanti anni hanno? allora sono le classi del biennio quindi hanno 14 15 anni 16 anni va bene no faccia conto che questo è un interrogatorio di polizia quindi c'è anche la lampada scherzo ha mai subito in classe mancanza di rispetto atti aggressivi? allora secondo me è una cosa è l'aggressività che ci caratterizza tutti ed è una cosa molto umana è una cosa è la violenza non sempre l'aggressività si trasforma in violenza questa è un po' la differenza io non ho mai subito atti di violenza pur percependo a volte molto forte l'aggressività dentro un ragazzo nel suo tono di voce in uno sbatteve la porta di una ragazza ma la stessa aggressività io a volte la percepisco anche dentro di me il contatto tra noi e loro è proprio in questo cioè trovare un modo per comunicare che non trasformi l'aggressività in violenza trovare un linguaggio per parlarsi questo anche deve fare la scuola ascolti lei entra in classe no? e che insegna? italiano e latino poi le dovrei fare una domanda sul latino va chiacchieriamo va chiacchieriamo senta lei entra in classe la mattina vestita correttamente loro stanno lì in piedi no seduti che chiacchierano sì noi abbiamo questa bella abitudine che quando io entro in classe loro si alzano in piedi è questo che volevo sapere perché se io facessi perché è un saluto cioè? è un saluto invece di dire buongiorno 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 ci si alza in piedi o sono in piedi è un modo per salutarsi è simbolico inizia un momento speciale che è la lezione sono contento è una liturgia lei è brava sono contento mi ha dato una piccola nota di contento loro si alzano lei va alla cattedra si siede dice comodi più o meno apre un registro dice giovanino per favore eccetera e comincia la cosa le do una brutta notizia il registro cartaceo è stato sostituito da un'app sul telefonino quindi anche noi professori in classe siamo costretti almeno all'inizio della lezione o alla fine per dare le valutazioni a usare il perfido telefonino anche solo per lavorare e quando noi andavamo a sbirciare se il professore usciva a sbirciare il registro sono marachelle che la tecnologia non permette più senta latino lei ha detto un latino allora le devo fare una domanda io sono un vecchio amante del latino perché quando l'ho studiato io al liceo classico si studiava davvero il latino oggi a Giuliano secondo lei ha senso insegnare il latino cioè in questo senso dico ha senso lei vede che scatta una scintilla quando non so che legge qui vedo che c'è il denaro natura legge legge l'inno avvene che bello l'esametro si insegnava così quelli si sbarrano gli occhi oppure si mettono a giocare col telefonino allora la scintilla scocca ogni volta che noi accendiamo un fuoco però dobbiamo accendere quel fuoco se non mettiamo insieme due pietre e le facciamo battere negli occhi dei ragazzi non si accende nessuna scintilla quindi dipende anche un po' da come noi riusciamo a far arrivare la bellezza dell'esame e le loro orecchie io quella scintilla la vedo negli occhi dei ragazzi cioè loro percepiscono che è una cosa molto importante per me e quindi dico ma se è così importante per lei questo lucrezio questa perifrastica passiva questa sintassi in qualche modo vuol dire che ci sarà qualcosa di interessante quindi si incuriosiscono poi qualcuno si appassiona qualcuno meno il libro quarto non glielo legge diciamo che ormai nella scuola si cerca di leggere il più possibile e si cerca anche di tornare un po' alla lezione la lezione intesa proprio come lettura dei testi senza farli passare attraverso una liofilizzazione del sapere manualistica torniamo un po' ai testi leggiamo sono così contento di questa conversazione perché non so se lei è un'eccezione lei è un po' eccezionale perché non sono tanti gli insegnanti uomini donne in grado di scrivere un libro con questa lingua che lei usa che è una lingua molto bella però le voglio far vedere adesso un documento importante Massimo Recalcati che tra l'altro ha scritto un libro che lei ha letto l'erotica dell'insegnamento qui parla di quella altra agenzia lei è la scuola che è la famiglia e in particolare il genitore oggi constatare che c'è una crisi diffusa generalizzata del discorso educativo è persino banale noi siamo di fronte a un'emergenza da che cosa dipende questa crisi beh si potrebbe dire che da un lato dipende da quello che il mio maestro Lacan definiva come l'evaporazione del padre quando diciamo padre che cosa diciamo diciamo che il padre è il simbolo della legge ma di una legge che non è scritta che non si trova nei libri di diritto che non è una norma giuridica ma che è la legge che ha fondamento della vita insieme e questa legge che cosa dice dice che non tutto è possibile il padre custodisce il senso della legge come senso dell'impossibile e allora il nostro tempo invece incoraggia in mille forme l'idea perversa ai miei occhi che tutto sia possibile e se tutto è possibile non esiste discorso educativo solo se un prato viene disegnato nei suoi confini con un gesso bianco e diventa un rettangolo può diventare un campo di gioco può rendere possibile il gioco va delimitato il campo perché il gioco sia possibile uno dei grandi problemi della scuola contemporanea è la dissoluzione del patto educativo tra le generazioni cioè Freud già lo notava quando diceva in fondo il ragazzo vede nei propri professori il prolungamento dell'autorità dei propri genitori come se ci fosse un'alleanza strutturale tra queste due generazioni che condividevano il compito dell'educazione del figlio oggi questa continuità si è spezzata perché si è spezzata perché viene meno la differenza simbolica tra le generazioni ma basta guardarsi attorno cioè i genitori di oggi si vestono come i loro figli parlano con lo stesso linguaggio dei loro figli giocano con gli stessi giochi dei loro figli e si sono messi in difesa come in una sorta di sindacalismo alla rovescia dei propri figli contro i professori in più aggiungo un'altra angoscia dagli effetti educativi devastanti che oggi attraversa i genitori è quella di amplificare diciamo così il valore della prestazione dei propri figli oggi non viene più dato tempo al fallimento non viene più dato tempo alla caduta allo sbandamento allo smarrimento che invece noi sappiamo essere gli ingredienti fondamentali di ogni processo formativo e i genitori in questo senso sono portati a potenziare il narcisismo del figlio e a vivere con sospetto ogni iniziativa educativa da parte degli insegnanti un provvedimento disciplinare un'insufficienza guardate sempre con sospetto come se si trattasse di un abuso di autorità di un abuso di potere di un'incapacità di vedere le enormi qualità dei propri figli bello è vero? molto volevo isolare una cosa che la riguarderebbe la riguarda in quanto militante su una cattedra come sono i rapporti con i genitori dei? perché io leggo noi leggiamo sui giornali che il professore gli mette quattro mio padre mi dava due schiaffi il genitore di oggi va dall'insegnante e gli mena sì c'è una contiguità troppo stretta tra i ragazzi e i genitori che impedisce poi quel distacco naturale che ci deve essere se i ragazzi non si distaccano dai padri e dalle madri non crescono e questo non sta passando più questo meccanismo c'è una cupola di protezione che le famiglie mettono in atto nei confronti dei figli per cui tutto quello che arriva a tozzare contro questa cupola di protezione è un colpo è un proiettile ma lei nella sua esperienza ha avuto qualche genitore che è venuto professoressa come si permette ha messo cinque a mio figlio allora è qualcosa che capita e se non capita proprio questo c'è a volte un senso di sospetto dice ma perché non sei riuscito a vedere la grandezza di mio figlio la bravura di mio figlio la tenerezza e sono tutti aspetti che effettivamente ci sono in tutti i ragazzi però sarebbe più utile che questi genitori imparassero a vedere anche le problematiche loro devono capire che la scuola deve insegnare il fallimento non solo l'applauso non è un teatro i ragazzi non stanno su un palcoscenico e devono prendere il premio ritira il premio l'alunno no devono imparare a metabolizzare il fatto che per raggiungere un obiettivo puoi cadere tre volte e poi la quarta volta ce la fai nello sport loro lo comprendono questo credo che nessun genitore vada all'allenatore della squadra a dire ma lei perché o è meno frequente forse e nella scuola non viene non viene tollerato più cioè un quattro un tre sono visti come un'ingiuria a un ragazzo questa è una mi ha dato ci ha dato delle notizie molto buone questa purtroppo è una cattiva notizia cioè è venuto meno una cosa che le parla un uomo molto vecchio ai miei tempi era impensabile il più umile degli insegnanti quello quello di italiano prestigioso famoso nella scuola ma anche un insegnante giovane umile era rivestito adesso esagero da una certa sacralità che lo rendeva intoccabile per cui se lui diceva al bambino al ragazzo all'allevo sei un ciucco nessuno si sognava di andare al tar a dire ma come si ormai è lo spauracchio dei professori credo che ci sia anche un altro elemento che prima chi era al di qua della cattedra era in qualche modo garanzia di un che si chiamava ascensore sociale cioè segui questa strada affidati a questa persona perché questa persona ti porterà a poter migliorare la tua condizione bravissima e oggi questo miraggio questa promessa non c'è più e quindi anche a questo secondo me è legato la crisi dell'aura del prestigio del docente perché il docente non è più garanzia di quella crescita sociale economica culturale che prima invece era vista come l'unico vero passaporto per il successo il tempo scade purtroppo avrei un'ultima domanda mentre vado là a leggere una cosa di Leopardi bellissima un'ultima domanda gliela faccio lei mi risponda mentre io mi avvio il prestigio lei si sente circondata sorretta da un prestigio sociale o il fatto lei scrive libri quindi questo è un complemento forte alla sua professione o il fatto che lei sia un insegnante si sa che gli insegnanti in Italia non sono pagati bene in qualche modo lede la sua statura sociale io vado intanto là e lei risponde io credo che il mio prestigio sociale emerga nel momento in cui il ragazzo che è seduto in fondo all'ultima fila e che era un po' sonnacchioso per tutta l'ora alla fine alza lo sguardo e dice prof io ho capito questo è il mio prestigio sociale grazie vi leggo in conclusione quattro otto righe che Giacomo Leopardi scrisse quando aveva vent'anni cioè nel 1818 e che sono rimaste inedite molto a lungo quasi un secolo poi sono state scoperte all'interno di un'orazione sulla poesia romantica ma queste quattro righe che adesso vi leggo sono dedicate ai giovani è come se volessero dare un senso a quella che è la vita così tumultuosa aleatoria incerta di un giovane dice il sommo Leopardi io non vi parlo da maestro ma da compagno non vi esorto da capitano ma vi invito da soldato sono coetaneo vostro e condiscepolo vostro ed esco dalle stesse scuole con voi cresciuto fra gli studi e gli esercizi vostri partecipe dei vostri desideri e delle speranze e dei timori abbiate pietà di questa bellissima terra e dei monumenti e delle ceneri dei nostri padri fate che la povera patria nostra in tanta miseria non rimanga senza aiuto perché non può essere aiutata forché da voi all'inizio di questa puntata avevamo richiamato il libro della generisi per dire che torre di babele o mondo nuovo non può essere costruito se non dai giovani Leopardi completa questo discorso e ci sembra una chiusa adeguata ad una puntata che speriamo vi abbia interessato alla prossima e ci sembra Grazie a tutti. Grazie a tutti.